Trattare i dati è un'operazione comune e necessaria per lo svolgimento delle attività di qualsiasi azienda. Ma il possibile abuso che potrebbe derivare da una gestione scorretta ha fatto nascere l'esigenza di varare una normativa ben precisa che stabilisca caratteristiche, tempi e modalità per l'acquisizione e il trattamento dei dati. Tutte queste norme sono comunemente indicate con il termine privacy. Grazie a tutti.